ho scaricato telegram oggi anche perché è più facile Grazie a tutti. mi stai seguendo? si si dove andiamo? Agatka Agatka si dove andiamo? Agatka 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 non ci hanno più ricordi di me oggi ok aspetta forse se ti dico questi ti ricordi di me ti ricordi tipo di un ragazzo che si chiamava nicolas2hit e tu giocavi con un profilo vecchio aspettavo nemici e cosa mi stavi dicendo ti ricordi di quel ragazzo che si chiamava nicolas2hit e tu giocavi con un profilo vecchio si avevo l'altro problema lo vuoi tu lo scarpe? eh perchè tanto non ero a si mi importa tieni i colpi tieni i colpi quante ne vuoi? ehm fai metta e metta vuoi quel giù mi può dare tanto vanno bene eh ok 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 oh scusa mi è partito perchè non guardo dove metto le dito qua c'è l'ultato qualcuno si ti salvo i colpi di acp so lo scar uso di 9mm e 5 ok non mi ricordi allora questo è unico vuoi uno zello di livello 1? ah no c'è l'è di livello 2 ok oh sono veri due sono e scappa scappa sono due veri sono uno in casa e uno fuori ma l'altro in casa l'altro in casa eh intanto l'ho amato ah era da dietro è venuto da dietro è venuto da dietro come i i palli si ammattono da dietro e sto poi già ammattando un altro come ha fatto a EU